Il primo congresso di posturologia clinica che si è tenuto all'hotel Gli Dei di Pozzuoli ha avuto tra i relatori il professor Bernard Bricot, la cui relazione ha suscitato grande attenzione. Stimato ortopedico francese, Bricot è riconosciuto a livello internazionale come tra i massimi esponenti nel campo degli studi e del trattamento terapeutico posturologico. Professore, stamattina qui, in questo primo congresso di posturologia, un argomento importantissimo, molto si è fatto e molto ancora si deve fare. È una nuova iniziativa della posturologia in Italia, una benedizione, perché è vero che la posturologia si sviluppa da tutto il mondo e è un peccato che non posso andare in avanti anche in Italia. Adesso lo facciamo. Quanto ancora c'è da fare e soprattutto che consigli possiamo dare? Allora, c'è dei corsi, adesso abbiamo un corso a Padova sull'egide dell'Arias e un corso a Roma organizzato per la struttura di Marapese e che si sviluppa anche a Roma. Qual è il futuro della posturologia? È un viraggio nella medicina e il futuro della medicina, perché lavora sulle cause e non più sui sintomi. La posturologia è tutto quello che inquadra la posturologia. Grazie a tutti.